Buongiorno da Gilda News. Dopo il rinvio della settimana scorsa, oggi c'era grande attesa nel mondo della scuola per conoscere il testo di riforma sulla buona scuola di Renzi. Ma non sarà così, sempre che il testo del progetto di legge sulla scuola è ormai praticamente chiuso, ma da indiscrezioni apprendiamo che la questione assunzione dei precari ha bisogno ancora di ritocchi, soprattutto in relazione ai numeri. Si è partite da 150.000 assunzioni, ora si parla di 50.000. Insomma, bisogna avere pazienza, ancora un paio di giorni. Infatti il Consiglio dei Ministri è stato fissato per giovedì 12 marzo alle ore 17.30. Ma i sindacati questa pazienza l'hanno persa. Così CGL, CISL, Willis, Nars e Gilda, dopo la conclusione delle attività elettorali per le elezioni delle RSU nelle scuole, hanno trovato l'unità e proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola a partire dal 20 marzo prossimo e culminerà l'11 aprile in una manifestazione nazionale a Roma. Il governo dovrebbe ascoltare di più prima di andare a pretendere di toccare un meccanismo delicato come quello della scuola pubblica statale. Speriamo che si fermino e che ci pensino un momento. Altrimenti noi, assieme a tutti gli insegnanti italiani, troveremo il modo di far sentire in modo ancora più forte la nostra voce. Perché tutti questi giorni di mobilitazione? Perché il progetto del governo, scrivono i sindacati nel comunicato unitario, non ha i requisiti della vera innovazione. Non investe risorse, non si fonta su un reale confronto, presuppone la condivisione, ma poi non la pratica. La scuola italiana ha bisogno invece di un significativo piano di investimenti che la riporta in linea con gli altri paesi europei. Nel comunicato, si legge ancora, il contratto è scaduto da sei anni. Nel frattempo il governo congela gli scatti di anzianità e si propone di introdurre un confuso e faraginoso sistema di premialità che prevede aumenti stipendiali solo nel 2019. In questo modo si costringerebbe il personale a porsi in una relazione di pericoloso antagonismo con i colleghi per ottenere benefici economici. Cosa chiedono i sindacati al governo? Chiedono l'immediata risoluzione della questione dei precari con la loro stabilizzazione e l'apertura della contrattazione per il rinnovo del contratto di lavoro. Questo è tutto da Gilda News, per oggi vi terremo sempre informati. Arrivederci.